Maestre, falso allarme legato al consumo di stupefacenti in via Ietz. A lanciare l'allarme alla polizia un residente che dopo aver escorto quelli che ai suoi occhi erano apparsi come due giovani inequivocabilmente intenti a drogarsi all'interno di un'automobile, ha chiamato le forze dell'ordine. Immediato l'arrivo della volante sul posto, l'auto era ancora lì, ma come hanno potuto constatare gli agenti si trattava di un'innocua coppietta che si era appartata.